It's me and my reflection, one step forward, two steps back, my only direction Stephanie Bellarte in Casual, Miss Nacionalisa Italia, edizione 2017, finale provincia di Lodi Stephanie Bellarte, anche Stephanie rigorosamente inelegante, adesso la vedremo sfilare, vedremo il portamento, Stephanie Stephanie Bellarte, unica finale provincia di Lodi, di Miss Nacionalisa Italia, facciamogli un applauso qui all'open bar, dai Camoil open bar 24, via Lodi, unica finale provincia di Lodi, con la vincitrice direttamente alla finalissima dell'8 e del 9 di settembre alla Baia Imperial, Stephanie Bellarte Sembra che abbia già un nome d'artene, è vero o no? Perché insomma ha questo nome molto molto particolare, dove sei? Vengo dalla provincia di Pavia Provincia di Pavia, quanti anni hai? 15, devo farne 16 15 anni! Da dove provincia di Pavia? Bereguardo Bereguardo, bene Anche per te, cosa vorresti fare da grande? Il mio sogno è diventare una regista cinematografica Diventare una regista cinematografica Allora magari poi ti facciamo parlare un pochettino con Oliver, anche lui è un bravissimo regista Quindi voglio dire, bene, 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 bene Noi ti salutiamo, un bel applauso anche per Stephanie Bellarte, passerella anche per te Stefani Bellarte Stefani Bellarte Il mio sogno è un pochettino con Oliver, anche per chiamare un pochettino con Oliver, anche per te